Terremoto nel centro-sinistra udinese dopo l'annuncio di sabato del Partito Democratico che ha deciso di candidare l'ex rettore dell'Università di Udine, Alberto Felice Detoni, per il centro-sinistra alle elezioni comunali del prossimo anno. Detoni sarà affiancato dal capogruppo del PD in consiglio comunale, Alessandro Venanzi, che sarà candidato alla carica di vicesindaco. Scartata quindi l'ipotesi delle primarie per scegliere il nome del candidato che cercherà di avere la meglio sul sindaco uscente, Pietro Fontanini. Caustico il commento di Enrico Bertossi, capogruppo della Civica, prima Udine. Non è un buon inizio, certamente. Noi adesso decideremo che linea seguire, ma siamo passati dall'ipotesi primarie all'annuncio del candidato sui giornali. Non siamo d'accordo. Perplessità condivise anche dalla Civica Open FWG. Il presidente Matteo Polo ha espresso infatti i propri dubbi riguardo questa scelta che non condivide. Era nell'aria da alcuni giorni. Noi esprimiamo la nostra contrarietà per questa decisione. Nei prossimi giorni ci riuniremo con Sinistra Unita e i Verdi per decidere il percorso da intraprendere. C'è molto da lavorare sul programma e da qui che si parte, non dai nomi. Vorremmo aprire un dialogo anche con i 5 Stelle per decidere una strategia efficace.